bene amici del canale finalmente direte un video e ce l'avete ragione perché ve posso capire benissimo allora che volevo fare oggi innanzitutto vi dico subito che sarà una cosa molto molto breve perché ho trovato sto spazio e tarvolo e di conseguenza ho approfittato per registrare dunque ho fatto se ben vi ricordate un ordine su tvb shaving oggi è arrivato il corriere con tutta la bella robetta adesso però andiamo a vedere pezzo per pezzo innanzitutto partire da lui zenith sedula di maiale manico rosso regà guardate quanto è bello bellissimo tra poco farò il rotaggio nel senso che lo metto in ammollo e poi sapete come funzionano queste cose secondo pezzo crema della lea penso che si pronunci così vedete c'è scritto per pelli sensibili e questa qui ha una fragranza molto particolare sul sito è riportata se non ricordo male mentolo muschio di quercia e sandalo non mi ricordo perfettamente tutto però comunque molto molto accattivante chiaramente voi queste cose le proveremo quando riprenderò a fare video appunto sulla rasatura come non poteva mancare la tfs verde anche questa qui mentola ad eucalipto veramente buona molto 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 buona mi piace la figaro oro eccola qui anche lei era tanto che la volevo prendere e raga c'è una fragranza che non riesco a descrivere è una cosa allucinante buonissima veramente buona e non c'entra niente con il figaro da 400 ml sia chiara sta cosa non c'entrano assolutamente niente come fragranza anche questa chiaramente poi appena posso la proverò sapone aslinger penso che si pronunci così sì giusto al ringer dovrebbe essere austriaco e questo qui è stato un graditissimo omaggio ragazzi e ben sono veramente felice di questo anche questo qui sapone duro e piano piano appunto proviamo tutto non lo scarto nemmeno perché insomma sarebbe peccato e poi altri due omaggi due campioncini di vitos adesso non mi ricordo se uno era al tabacco sì la colonia al tabacco e questo qui dolce gabbana forse comunque sono due vitos e va sicuro che pure questi sono veramente buoni questo qui è quanto mi è arrivato sono veramente contento ringrazio come al solito paolo perché è veramente una persona precisa spedizione velocissima un giorno nulla da di perfetto come sempre in passato ho fatto ordini sempre su tvb shaming e ripeto mi ci trovo veramente bene altra cosa importante per tutti i membri del gruppo non solo la satura ci sarà uno speciale sconto del 13 per cento inserendo un codice che poi vi verrà fornito in privato se appunto siete interessati ragazzi spero che il video che sia piaciuto più che altro per almeno che carica qualcosa e comunque farvi vedere le cosette che mi sono arrivate che sono molto molto carine mi raccomando raga pazientate perché purtroppo quella situazione è un attimino così e di conseguenza non ci posso fare niente comunque continuerò a fare magari qualche altro video anche su facebook vedete comunque posto abbastanza spesso mi raccomando raga pollice in su iscrivetevi chi non l'ha fatto perché comunque secondo me è una cosa molto importante che fa capire che appreziate il mio lavoro mi raccomando voi che potete fateve belle sbarbate ciao